Grazie Presidente. Gli impegni della mozione all'esame oggi sono tanti, come hanno già sottolineato i colleghi che mi hanno preceduto. Implementare ulteriormente l'integrazione delle cure palliative tra i servizi sanitari, recuperare il processo di umanizzazione delle cure, soprattutto per i pazienti fragili, per i pazienti anziani e direi adeguare soprattutto le dotazioni organiche delle unità di cure palliative, dare seguito all'istituzione del corso di cure palliative pediatriche della Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative. Tra i diversi impegni vorrei sottolineare l'importanza di un protocollo uniforme su tutto il territorio nazionale che nell'ambito di organizzazione della rete ospedaliera correlata al Covid-19 possa assicurare il mantenimento delle comunicazioni tra i familiari e gli operatori, proprio per garantire ai familiari la possibilità di avere informazioni precise e garantire che ci siano notizie sullo stato di salute del proprio familiare. Questo attraverso una figura appositamente designata, direi dedicata all'interno delle unità operative di degenza, ma in particolare anche nei pronto soccorso. Ed è ugualmente importante assicurare lo svolgimento delle visite da parte dei familiari secondo delle regole prestabilite, in mancanza di questa possibilità magari l'adozione di strumenti alternative alla visita che, come si è visto in molti casi, è stata rappresentata dalle videochiamate organizzate dalle strutture sanitarie. Ogni struttura dovrebbe in qualche modo individuare ambienti dedicati, in condizioni ovviamente di sicurezza, ambienti che siano adibiti all'accesso di almeno un familiare e garantire la disponibilità anche di personale che sia dedicato all'assistenza sociale, all'assistenza psicologica, all'assistenza spirituale, con una preparazione che sia idonea a gestire le esigenze di pazienti Covid-19 e delle loro famiglie. Noi, come Movimento 5 Stelle, stiamo lavorando a diversi emendamenti, ma anche a diverse proposte per consentire agli accompagnatori o a parenti dei pazienti non affetti da Covid-19 di permanere nelle sale di attesa dei pronto soccorso e di consentire l'accesso di parenti e visitatori alle strutture ospedaliere, alle RSA, alle strutture riabilitative e a strutture residenziali per anziani autosufficienti e non. Stiamo lavorando anche per garantire le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali attraverso anche l'informazione, la sensibilizzazione non solo degli ospiti, dei familiari, ma anche dei caregiver sui comportamenti che vanno tenuti durante le uscite in modo che ci sia la massima sicurezza dell'ospite e ovviamente anche della struttura al rientro dell'ospite stesso. Le cure palliative sono espressione dell'attitudine propriamente umana a prendersi cura gli uni degli altri, specialmente di chi soffre. Esse testimoniano che la persona umana rimane sempre preziosa, anche se segnata dall'anzianità e dalla malattia. Queste parole sono state pronunciate da Papa Francesco il 5 marzo del 2015, un'occasione nella quale Papa Francesco incoraggiava i professionisti, gli studenti a specializzarsi in questo tipo di assistenza, che non possiede meno valore solo per il fatto che non salva la vita. Anzi, le cure palliative realizzano qualcosa di altrettanto importante, valorizzano la persona. E allora le parole di Papa Francesco oggi assumono una valenza, se vogliamo, ancora maggiore, che va ben oltre il monito, l'esortazione. È un vero e proprio imperativo morale, etico e per quel che compete quest'Aula un imperativo, direi, giuridico, proprio alla luce dell'impatto devastante che la pandemia da Covid ha avuto nei confronti della vita delle persone, ma anche purtroppo della loro morte. I numeri dei decessi sono veramente orribili, a volte soprattutto quando ripetuti in maniera ossessiva in tutti i bollettini quotidiani. Ma dietro quei bollettini, dietro quelle notizie, dietro quei numeri ci sono purtroppo persone che sono decedute in solitudine, senza la presa in carico globale di tutti i bisogni di cura, quelli relazionali, quelli psicologici, quelli spirituali, di quei bisogni di cui ha bisogno ciascuno di noi al termine della propria vita. Dietro queste persone ci sono madri, ci sono padri, figli, fratelli, sorelle. C'è tutta l'umanità che ci caratterizza. Ed ecco perché nella mozione sono riportate parole che non possono essere né sottaciute né dimenticate. Toccare, ascoltare, parlare, guardare, prendersi cura sono quegli atti mancanti nei rapporti con la persona morente e di cui tutti dobbiamo sentirci responsabili. Durante questa emergenza questi atti d'amore, dobbiamo dirlo, sono stati un po' sacrificati per molte, forse per troppe persone, sia per i pazienti Covid che per quelli che non avevano il Covid. E questo sacrificio forse segnerà in maniera inevitabile le coscienze di molte generazioni, le coscienze dei singoli, siano esse familiari, siano esse professionisti, ma anche figure istituzionali che hanno dovuto operare scelte dolorose sacrificando loro malgrado questa parte di umanità. E allora abbiamo l'occasione di restituire a ciascuno il diritto di alleviare le proprie sofferenze sul fine vita e durante la malattia. Le cure palliative, diciamolo in maniera chiara, definitiva, sono un diritto assoluto, mai più rinviabile e mai più sacrificabile. Le strutture sanitarie, quelle socioassistenziali, anche all'interno delle medesime regioni, hanno dato indicazioni disomogenee in merito alle relazioni tra pazienti e familiari. La maggior parte delle strutture, questo lo sapete tutti, ha previsto il divieto di accesso generalizzato da parte dei familiari, dei visitatori, mentre altre strutture almeno hanno consentito l'accesso di un visitatore per ciascun paziente, ovviamente sempre nel rispetto di diversificati protocolli di sicurezza. In questa situazione drammatica sono state segnalate, come giusto che fosse, una serie di realtà, di esperienze virtuose, come quelle rappresentate da strutture sanitarie che hanno consentito il contatto tra pazienti e familiari attraverso lo smartphone, attraverso il tablet, anche se in molti casi queste modalità non sono state possibili o per carenze organizzative o per le condizioni degli ammalati. Noi non finiremo mai di ringraziare tutte quelle strutture, tutti quei professionisti della sanità che, nonostante i turni massacranti, hanno dedicato il tempo necessario ad assicurare quell'umanità delle relazioni senza le quali noi tutti saremmo il nulla. Noi dobbiamo ricordarlo sempre questo, prima di tutto conta l'umanità, prima di tutto ci sono le relazioni umane, familiari e sociali, ma soprattutto noi qui come legislatori dobbiamo garantire che mai più nessuno sia messo in condizioni di sacrificare la propria umanità ed è da qui che nascono i diversi puntuali impegni chiesti al Governo in questa mozione. Dobbiamo quindi decidere, colleghi, come costruire o meglio come ricostruire il nostro modello di società, su quali principi, su quali valori, come abbiamo fatto a non tener conto dell'energia vitale, lo ripeto, l'energia vitale nascosta in ogni relazione, in ogni luogo, in ogni attività, del nostro vivere comune. Come abbiamo fatto a non tenere presente al centro del dibattito politico questo tema così vitale per una società inclusiva che tutti quanti diciamo di voler realizzare. Allora chiudo, Presidente, richiamando quest'Aula ad un impegno etico, prima che politico, nei confronti del Paese per metterci in linea con un sentimento diffuso delle nostre comunità, che è quel sentimento che potrà contribuire certamente alla rinascita del nostro Paese. Grazie. Grazie a lei.